Solitamente, da questa strada panoramica, visitatori e abitanti ammirano il lago di Como, un paesaggio che spazia fino al promontorio di Bellagio. Ma oggi, lunedì 28 dicembre, a Olgiasca, frazione del comune di Colico, la protagonista indiscussa è la neve. Un manto di più di 25 cm ha coperto le strade deserte del paesino in provincia di Lecco, che conta meno di 100 abitanti, ma vanta una massiccia affluenza di vacanzieri da Germania e Svizzera. A causa dell'emergenza sanitaria, però, in queste vacanze natalizie, Olgiasca è rimasta vuota e silenziosa, così come le sue vie e i suoi punti panoramici. Un paese dove l'atmosfera è ancora più sospesa, dopo la nevicata che ha imbiancato tutto il nord Italia, come non faceva da almeno dieci anni. Nemmeno Betlemme, o almeno la sua rappresentazione casalinga, per la tradizionale gara di presepi, è stata risparmiata dal maltempo.